buongiorno a tutti mi sentite sì io direi che possiamo cominciare adesso mi pare che non stiano più arrivando allora benvenuti io mi chiamo elena tresso e sono una professoressa qui del politecnico buongiorno a ecco sia possiamo dare ancora tanto mentre vi sistemano quelli che arrivano vi dico solo chi sono sono una che non ha fatto ingegneria fisica perché non c'era quando io ho iniziato l'università qui non c'era nessuna ingegneria fisica ho fatto ingegneria nucleare e poi sono rimasta qui qui insegno essenzialmente corsi di fisica e nel corso della laurea specialistica eh sì no allora aspettiamo ancora un attimo che si sistemino eh la registrazione è già partita comunque io intanto vi dico queste cose più colloquiale che eh l'ingegneria fisica qui è abbastanza recente e che però l'abbiamo messa su insieme ad altri colleghi proprio per cercare di sopperire a quello che ci era sembrato a noi fosse mancato che ci siamo dovuti studiare un po' più per conto nostro lo dice già il nome ve l'avranno già detto è una discorso un po' intermedio fra fisica e ingegneria e noi che eravamo ingegneria ci siamo dovuti studiare tanta fisica per conto nostro e adesso abbiamo siamo finalmente con un corso dove ci sono del fondamenti di fisica e poi una comunque competenza ingegneristica che vuol dire arrivare a realizzare e a sperimentare molto in laboratorio o con dei modelli di calcolo e le situazioni però da un punto di vista più applicativo cioè voi sapete che c'è ingegneria fisica alla triennale che è un percorso più di base dopodiché nella specialistica qui al Politecnico almeno abbiamo due filoni uno è quello di cui io faccio parte micro e nano technologies che è più sulle micro e nano tecnologie e l'altro invece è la fisica dei sistemi complessi che se volete più teorica però poi studia le applicazioni i sistemi complessi possono essere sia i sistemi finanziari eh delle azioni del mercato mondiale sia li temporali sia eh come un sistema quantico eh per la misura del tempo per esempio ecco però tutti con un grande più ehm impronta verso l'applicazione con la possibilità poi anche di essere veramente ingegneri e quindi di essere iscritti all'albo degli ingegneri che è quello che offrono le lauree in ingegneria allora per questa lezione che non è proprio ho scelto un argomento che secondo me ben esemplifica quello che si fa a ingegneria fisica ed è un argomento eh di grande richiamo direi di attualità la foglia artificiale che investe due campi che sono importanti l'energia e l'ambiente perché eh sapete che siamo in grande crisi sia energetica adesso poi esaltata da queste tristissime ultime giornate e eh in grande crisi ambientale allora ci sono delle proposte che vanno sotto il nome di foglia artificiale e sulle quali tanti stanno lavorando e anche noi con un approccio che vi farò vedere eh che è tipico di di questo nostro corso di ingegneria fisica e di micro in al buongiorno e di micro e nanotechnology se stiamo studiando allora vi dico subito non è proprio una lezione non è la lezione che vi faranno al primo anno anch'io insegno al primo e il secondo anno faccio fisica due non le faccio così uso un modo tipico eh un po un po il mio modo è questo però di spiegare sempre perché e non solo di dire come eh però in questo caso vi cerco di di affrontare con parole facili perché penso alla conoscenza che vi han dato al liceo un argomento che poi è tipico questa è una lezione che si fa poi casomai nella specialistica eh nel nel corso per esempio che è nano technologies for energy and ehm ambiente per cui ci sono eh delle applicazioni e le faccio di trattarle a un livello però comprensibile da chi arriva spero con una ma con i corsi che si fanno alla scuola magari non capite tutto se non capite chiedetemi e cerco di spiegare meglio l'ho divisa in quattro parti la prima è la parte più naturale foglia energia e CO2 cioè la fotosintesi di cui penso tutti abbiate avuto un'informazione almeno già dalla scuola media mi ricordo si studia le mie figlie non studiano poi parlo invece di cosa è l'idea di fotosintesi artificiale e poi vi faccio vedere due dispositivi i fotocatalizzatori è un dispositivo invece integrato con delle celle solari che abbiamo realizzato qui eh al Politecnico in collaborazione con IT allora partiamo dal discorso generale e il discorso generale è questo cosa sono le foglie questa foto mi piace anche perché vi dà già un'idea di quanta diversità c'è guardate le forme delle foglie che sono rappresentate buongiorno sedetevi sì sì dove c'è e questo è un oggetto che ci è ben familiare e che eh conosciamo però forse non ci pensiamo tutte le volte che vediamo le foglie e non sembra che questo può essere definito come il sistema di conversione energetico più riuscito attualmente eh in eh funzione sulla superficie terrestre sulla terra eh perché un sistema di conversione vabbè è un sistema che adesso poi spieghiamo perché è per la conversione energetica e spieghiamo anche perché è il più riuscito il più riuscito perché è arrivato con un'evoluzione che è durato eh più o meno adesso dipende da dove la datate ma da quando hanno cominciato le prime alghe nel sulla terra eh si si parla di due tre miliardi di anni e la forma la forma la struttura eh la composizione della foglia e delle piante è continuamente cambiata ehm come mai è importante però è voglio dirvi perché è un dispositivo è un dispositivo anche se non ci sembra vedete una foglia una cosa così vi sembra una cosa semplicissima tutta chiusa in questa superficie di colore verde che poi cambia nel tempo però guardate cosa succede se vi focalizzate ho scritto un millimetro quadro non potevo indicarlo ma pensate proprio un quadretto che ha un millimetro per ogni lato e guardate per farvi vedere che davvero è un dispositivo per la conversione energetica quanto è complicato dentro quanto è noi diciamo anche nano strutturato se lo incrandite per cento volte quel millimetro quadrato che lì andate a osservare delle cose che sono dell'ordine qua devo sempre togliervi questo perché se no mi copre quello che ho scritto sono i cloroplasti che sono quei dischetti verdi che vedete lì dentro e sono dell'ordine di dieci micron micron e dieci alla meno sei quindi sono dell'ordine di dieci alla meno cinque metri questi eh dischetti verdi che sono dentro la foglia che eh sembra fatta come una una superficie omogenea in realtà sono presenti e eh sono dell'ordine di dieci alla meno cinque metri ma guardate cosa succede se ingrandisco ancora di cento volte che vuol dire perciò diecimila volte in totale arrivo a vedere qualche cosa che è di una complicazione unica e questo già ve la dice che può essere un dispositivo allora una superficie così piana con dentro una cosa così complicata è così complicata che quella che vi sto facendo vedere si chiama photosystem 2 e credo si fotosistema 2 l'avete anche forse almeno sentito nominare è un ammasso un bunch si dice in inglese un reticolo un groviglio di proteine complesse di coloranti come di molecole organiche come la clorofilla eh che tutto insieme ha una sua funzione basilare per rendere la foglia davvero il più riuscito dispositivo energetico eh la struttura qua non è mentre quella di sopra potete pensarla come una fotografia perché ottenuta con un microscopio ottico con particolari tecniche per la colorazione quella di sotto è una ricostruzione al computer non siamo ancora in grado di andare a fare delle immagini di una struttura così complessa come il photosystem 2 siamo in grado di studiarlo più che più che non io tutti i chimici e i biologi di eh fare prove in laboratorio riottenerlo eh e però eh pensano che sia fatto così non è che sia solo pensare questo è frutto questo disegno non è un disegno tirato giù come un disegno di un cartoon ma è pensato per eh studiare l'equilibrio studiare la composizione chimica e la forma è ottenuta dopo calcoli che si dicono ab inizio cioè fatti al calcolatore che poi vi danno la struttura in tre dimensioni allora questo è per dire è un dispositivo molto complicato dentro complicato a livello nano e eh perché è un dispositivo perché fa quello che credo anche voi abbiate sentito già dire fa la fotosintesi clorofiliana e cioè entrano nella foglia co2 ed acqua c'è il sole quello che non ho disegnato ma che si vede perché funzioni in questo modo la foglia deve essere illuminata dalla luce solare esce ossigeno e qualche molecola complessa che qui è indicata semplicemente come zuccheri lo zucchero è C6 eh H12O6 ma non è solo zucchero sono altre molecole complesse complicate organiche che hanno dentro carbonio idrogeno e ossigeno la formula chimica quella è quella del glucosio ma non è detto che sia sempre quella che cosa succede per avere questo passaggio dal blu che è l'input al rosso che è l'output ci sono delle reazioni elettrochimiche ci sono degli scambi di energia ci sono delle cariche che sono essenzialmente elettroni e protoni protone H più cioè il nucleo dell'atomo di idrogeno eh senza l'elettrone e degli zuccheri che sono appunto delle molecole complesse che servono a cosa a garantire la vita della pianta la reazione non è affatto semplice la potremmo scrivere in una maniera abbreviata ma comprende tutto quel ciclo che è disegnato lì delle si chiamano quelle da dove c'è scritto light sono le reazioni che avvengono sotto la luce del sole e le altre sono dei cicli chimici fatti senza necessità della luce si chiama il dark ciclo l'importante anche qui però a noi quello che interessa è che entra acqua e CO2 li vedete qui sopra ed escono ossigeno e zucchero e in più però cosa succede succede che questo garantisce la vita sulla terra perché non è solo il più piccolo dispositivo senza le piante senza le alghe primordiali qui non saremmo arrivati dove siamo arrivati adesso e questa foto mi piace molto perché vi dà un'idea quasi da paradiso terrestre non c'è l'uomo qui dentro sembra tutta natura e c'è il sole che dà energia a questo sistema che è perfetto a vederlo così cioè non so trovatemi una foto più bella è già abbastanza bella manca il mare ma insomma c'è tutto quello che ci piace e però nello stesso tempo perciò garantisce cosa la vita e qui dietro c'è un problema enorme dobbiamo dire cosa è la vita è solo sopravvivenza e sopravvivenza ed è anche crescita e però anche morte perché un sistema così cambia continuamente nel tempo e nello stesso tempo l'energia vedete la freccia doppia viene anche spostata dalla terra al di nuovo all'atmosfera e perciò c'è una specie di ciclo se invece ah sì scusate no andiamo indietro qua così ecco come succede questo e qui insomma è proprio molto sintetizzato c'è un ciclo perché anche quella trasformazione che abbiamo detto co2 più acqua che danno glucosio e ossigeno lo sapete che una pianta di notte se ve la tenete vicino al letto vi dicono è meglio che tu la sposti perché di notte che cosa fa avviene la trasformazione inversa e cioè con il glucosio consumando glucosio e consumando ossigeno la pianta emette di nuovo fuori co2 la pianta la riemette quella doppia freccia vuole anche dire questo adesso sentite parlare tanto del problema della co2 ma non è che non ce ne sia di produzione di co2 in un sistema naturale c'è ma è sufficiente a garantire questa trasformazione ciclica ho messo anche questa foto che mi piace solo per darvi l'idea che la foglia stessa ha una trasformazione ciclica c'è una trasformazione diciamo di alternanza giorno notte che è quella del lavoro della foglia c'è una trasformazione stagionale l'anno prossimo saranno altre foglie a fare il lavoro che hanno fatto quelle dell'anno prima quindi ci sono due idee dalla natura che sono importanti ci sono sia i processi favorevoli alla produzione di energia se volete è il glucosio l'energia anche cioè dalla dal sole all'energia che serve per il lavoro per la sussistenza sia i processi per respirare perciò per fare il contrario riemettere qualche cosa che era stato dato all'inizio e perciò ci sono i processi circolari e adesso andiamo a vedere un'altra foto che anche questa è bellissima è presa da un satellite della nasa e rappresenta la terra se andate a cercare in internet ce ne sono di fantastiche io ho preso quella dove c'è l'europa e l'Italia cosa fa vedere qui c'è l'uomo alla grande ci sono le luci che sono accese di notte e allora da cosa dà l'idea che anche questo è un sistema che è stato ai colori artificiali ma è proprio una foto presa dal satellite e questi colori sono stati sicuramente un po' ritoccati e comunque dà l'idea che c'è anche qui di sicuro un'energia perché per fare tutte quelle luci ce ne vuole di energia e di notte quella foto là di giorno è tutta buia è quella della natura dell'ambiente e è garantita una vita quale vita è solo più la sopravvivenza noi non ci accontentiamo più solo della sopravvivenza abbiamo bisogno di una qualità di vita e ne vogliamo continuamente migliorare non siamo d'accordo su cosa intendiamo per qualità della vita fra tutti però ci sono certamente un sacco di tentativi per migliorarla questa vita che corrispondono a continuamente aumentare il bisogno energetico quindi la domanda è ma da dove la prendiamo questa energia allora per dire da dove sulla terra la prendiamo ho trovato sta foto che è veramente un po' sembra un po' molto complicata e arzigogolata ve la spiego passo per passo e già vi fa l'idea di quanto è complicato cioè di quanto è complicato di quanto è confuso il discorso a livello di artificiale cioè di quello che è fatto dall'uomo rispetto a quello che è fatto dalla dalla natura perché pensate ecco allora le due sorgenti qui sono rappresentate più o meno dall'alto le due sorgenti una è quella che è usata all'ottanta a novanta per cento adesso sapete combustibili fossili le rinnovabili stanno acquistando interesse mettiamo in giallo quello che è la fonte di energia per rispondere al da dove no però vediamo perché cosa perché cosa allora ci sono energia elettrica e calore che sono generate tanto da qui sono delle celle solari no che sono quelle che prendono energia dal sole e danno elettricità però altra energia elettrica può venire dai combustibili fossili il calore il calore di sicuro può essere generato avete presente non è da queste celle qui ma dai pannelli solari termici e può essere benissimo generato anzi continuiamo a generarlo in genere con combustibili fossili non c'è solo quello di cui abbiamo bisogno abbiamo bisogno di benzina io ho scritto benzina in generale fuel che sarebbe però il combustibile per le nostre vetture per i veicoli e i trasporti abbiamo bisogno di energia per realizzare i composti chimici artificiali tipo le plastiche e abbiamo un'altra qua non c'entra abbiamo un'altra uscita e abbiamo una cartella rossa che è l'uscita un'uscita sgradita e non voluta che è la co2 c'era anche nel sistema naturale però guardate che la co2 che mettiamo noi compromette gravissimamente il sistema naturale non è tale e ne mettiamo così tanta che non è eh questa emissione tale da poter essere eh da poter garantire la sussistenza del sistema naturale e ce ne stiamo accorgendo ci abbiamo messo molto a capirlo ma stiamo andando non sto lì a dirvi quanto è dannosa la produzione di co2 che si ottiene dalla combustione dei fossili e allora ehm adesso il problema è seconda parte delle questa lezione copiamo la natura ci abbiamo messo anche un po' perché siamo andati avanti a bruciare combustibili e a produrre dispositivi per l'energia adesso che ci accorgiamo che siamo in crisi una grande idea ed è quella alla base della foglia artificiale è beh andiamo a vedere come fa la natura e cerchiamo di imitarla e allora prima cosa la natura è complicatissima la foglia avete presente quel photosystem 2 è impossibile essere in grado di replicarlo adesso cioè non riusciamo a fare un'altra foglia che faccia esattamente quello che fa la foglia non è nemmeno quello che vogliamo perché a noi interessa una produzione di energia molto più elevata non ci accontentiamo di avere un po' di zucchero eh quello prodotto da una singola foglia e quindi ehm il discorso è vabbè questa è una foto un po' così eh di richiamo dove c'è combinato assieme il dispositivo che è la cella solare con qualche cosa di naturale le foglie che si riflettono sul modulo delle celle però guardiamo bene da vicino cosa succede nella foglia e andiamo a vedere che nella foglia ci sono delle reazioni redox spero che voi sappiate cosa sono le ho scritto lì sono delle ossidoriduzioni che vanno a cambiare il grado di ossidazione degli atomi cioè per quello che mi serve oggi comportano il passaggio di elettroni da una mole da un atomo da una molecola a un altro allora le reazioni possono essere semplifichiamo no perché noi dobbiamo copiare la natura tagliamo in due pezzi la foglia produce usa acqua e usa co2 e produce glucosio però c'è un passo intermedio passo intermedio che produce anche idrogeno allora abbiamo due scelte nella fotosintesi artificiali la prima che è la più semplice che è già partita più anni addietro è quella di dire vabbè cominciamo a copiare la foglia perché produce idrogeno anche l'idrogeno ci va bene è un buon combustibile brucia e libera acqua le macchine a idrogeno non ci sono ancora molto ma potrebbero essere una gran bella soluzione e allora la prima idea è cominciamo a fare un dispositivo che almeno fa la prima parte delle reazioni le reazioni della fotosintesi sono due sono scritte lì non sono bilanciate e attenti queste non sono reazioni chimiche perché se fate h2o vi viene fuori una h2 una molecola di h2 ma poi vi viene solo un mezzo di o2 per cui scrivete ma non volevo volevo solo lasciare l'idea acqua più energia dal sole da idrogeno e ossigeno questa è una reazione anche chiamata water splitting spaccatura della molecola di acqua che è quella che permette tra l'altro partendo dall'acqua che c'è in abbondanza sulla terra di ottenere un combustibile green questa qui se fosse se soprattutto è l'energia che viene dal sole potrebbe anche essere energia elettrica invece cioè non pulita se viene dal sole è veramente un idrogeno green sapete che ci sono altri idrogeni si può anche produrre l'idrogeno non solo dall'acqua dando giù una bella differenza di potenziale no una scarica elettrica e lo dissocio ma posso anche produrlo partendo dai petroli dagli idrocarburi ma allora di nuovo è un idrogeno grigio non più o nero addirittura e allora il primo step sarebbe quello water splitting facciamo almeno idrogeno ma il secondo più complicato è che sta acquistando un grandissimo interesse questo che coinvolge la reazione tra idrogeno co2 scusate acqua co2 ed energia del sole per produrre cosa un combustibile questo avrebbe il grandissimo valore di usare la co2 che è prodotta e che sta andando a peggiorare la condizione di vita sulla terra perciò usiamo quella co2 che deriva dalla bruciatura dei combustibili dalla combustione dei combustibili fossili così almeno la riusiamo per un buono scopo e allora queste sono le due possibilità adesso per la fotosintesi artificiale o produciamo idrogeno oppure cerchiamo di produrre un biocombustibile un combustibile puro green che si ottiene anche usando la co2 cioè recuperando la co2 valorizzandola per produrre molecole ad alto valore aggiunto voglio però anche farvi ricordare che c'è sempre la reazione inversa che per la foglia è quella negativa che avviene di notte per noi invece diventa essere positiva perché la reazione inversa è quella che ha dal punto di vista artificiale interessa di più guardate la energia è passata da sinistra a destra della reazione e perciò se l'energia è un input nella fotosintesi l'energia è liberata nella combustione ed è l'impiego per cui ci interessa anche no per dal punto di vista artificiale c'è anche quel vantaggio lì che tutti i combustibili che produciamo poi li useremo per delle combustioni che sono pulite c'è ancora un discorso che riguarda l'energia necessaria però per attivare queste reazioni questo è un diagramma un po' complicato c'è l'energia libera di Gibbs riportata ma pensate solo all'energia e pensate proprio a fisica 1 quando c'è una specie di collinetta no e dovete salire scavalcarla per arrivare all'altra pianura che è a un livello più alto ma c'è questo ostacolo così è per la reazione della fotosintesi naturale e la foglia la pianta che provvede l'energia che è necessario a trasformare l'energia del sole per questo cosa succede nella fotosintesi artificiale noi vogliamo arrivare non solo più alla produzione che c'è nella foglia che a questo livello ma a tanti diversi combustibili qui c'è il primo di cui vi ho parlato l'idrogeno che ha un livello basso vedete ha un energia tutto sommato bassa l'importante è dargli la possibilità di saltare questo step e poi però ci sono altri combustibili vedete c'è per esempio il metano c'è il metanolo combustibili che possono essere importanti e c'è un prodotto che di per sé non è il migliore CO monossido di carbonio che però è interessantissimo perché ci dice per ogni molecola di CO che riusciamo a produrre vuol dire che ce n'è una di CO2 che abbiamo eliminato e quindi che davvero riusciamo a fare una valorizzazione della CO2 poi come possiamo fornire però il salto di questa collinetta cioè come possiamo fornire l'energia che serve per arrivare questi livelli qui sono i livelli del potenziale redox delle reazioni che sono indicate qua che possono avvenire cioè sono praticamente non si misura più in joule questa energia si misura in elettrone volt che è una unità più piccola gli elettroni volt necessari sono a questo livello qui quindi è necessario dare almeno questo salto chi glielo può dare allora glielo può dare qui parto con la terza e la quarta parte eh qualcosa di un dispositivo creato dall'uomo il primo esempio che vi farò è quello dei fotocatalizzatori e il secondo esempio è quello di un potenziale esterno applicato un bias l'avete studiato forse cos'è un potenziale di bias è una differenza di una tensione applicata fra due elettrodi che può essere fornito per esempio dalla cella solare allora fin qui è abbastanza chiaro abbiamo fatto un confronto fra naturale e artificiale l'artificiale si rivolge in due filoni produrre acqua due o produrre un combustibile e l'idea perciò è questa anche un altro esempio per farvi vedere che c'è la luce solare è importante in entrambe le le i lati della slide e poi c'è co2 h2 e di qua c'è sugar zuccheri scusate per l'inglese qua noi l'inglese lo usiamo tanto ho già cercato di tradurre quasi tutto ma queste cose qui le sapete tradurre meglio di me chemical on demand chemicals per inglese è un termine che vuol dire proprio qualunque elemento chimico che possa servire su richiesta per cui comprende il combustibile ma comprende anche molecole diverse da non solo combustibile questa è l'idea in generale che sarebbe la chiamano la perfetta soluzione ciclica perché quello che è più importante è questo dato che è scritto qui in questa slide il sole fornisce un'energia enorme centomila terawatt in un anno quello che la terra consume in un anno sono solo quattordici terawatt ora è vero che l'energia prodotta dal sole è prodotta come onde elettromagnetiche poi bisogna saperla convertire però perché anche oggi usciamo fuori ce n'è tantissima di energia dal sole la maggioranza viene non è che sprecata viene per illuminare per garantire la vita sulla terra dal punto di vista naturale parte possibile che sia convertita se mettete davanti al sole quando sta arrivando un pannello che in grado di catturarne l'energia no cattura i fotoni e li prende allora comunque c'è questo ingresso in questo diagramma circolare di energia dal sole parte una molecola anzi qua è bilanciata due molecole di h2o grazie all'energia del sole viene splittata cioè si fa il primo step che è il water splitting si produce ossigeno e due molecole perché siete partite da due di acqua di idrogeno se queste due molecole di idrogeno le faccio reagire con la co2 ottengo questo prodotto che si rosso che è il combustibile liquido verde pulito che ha anche valorizzato la co2 di partenza cioè è riuscito a trasformare dentro e anche la mh inglobare dentro la nuova molecola la co2 che era una molecola dannosa e poi il ciclo può ricominciare perché si può ancora continuare fornendo dell'ossigeno a ricominciare a produrre acqua e ad usare tutta l'altra energia che serve per gli usi che possono servire per la terra è ideale questo discorso sì ma non troppo questo è il disegno che vi dice più o meno come un sogno e non siamo ancora assolutamente a questo punto ma come ci potremmo arrivare se riuscissimo a fare veramente un discorso di fotosintesi artificiale il sole arriva a incidere non più sui pannelli delle celle ma dei pannelli più complicati che si chiamerebbero fotocatalytic reactor cioè reattori fotocatalitici ma ci arriva non solo il sole ci arriva su questi pannelli anche la co2 che è emessa dalle raffinerie da tutte le industrie che fanno lavoro di combustione quindi questi sono i due input per questo che sarebbe il dispositivo che mima che copia la foglia e poi cosa viene prodotto del combustibile pulito metano metanolo che serve di nuovo in questa raffineria che funziona anche vedete a metanolo e metano ma non solo potrebbe anche servire per produrre materie plastiche e benzina qua non è disegnata la benzina bene ma si intende anche che potrebbe produrre combustibili che servono per il trasporto per esempio quindi questa sarebbe l'idea e adesso andiamo a vedere come si potrebbe fare i primi passi che sono stati fatti riguardano dei materiali che vengono detti fotocatalizzatori e sono veramente copiati dalla natura perché se andate a pensare alla fotosintesi e questa è la fotosintesi naturale non vi ho descritto il fotosistema 2 ma in questo piccolo sketch è raffigurata almeno il nucleo la cosa centrale del sistema fotosintesi della fotosintesi c'è un raggio solare che arriva c'è una molecola di clorofilla non è solo così anche delle code sta molecola ma un atomo di magnesio al centro e degli azoti intorno questa è la clorofilla cosa fa la clorofilla cattura la luce del sole e poi però immediatamente per cui cattura energia la luce del sole non ha massa e i fotoni sono pura energia arriva l'energia è catturata assorbita dalla molecola di clorofilla che però è in legame link vuol dire legame collegamento con il fotosistema 2 all'interno del fotosistema 2 dove avviene la reazione fra acqua co2 zuccheri e zuccheri allora l'idea di base è cosa dobbiamo avere per realizzare questo artificialmente dobbiamo avere un materiale forse meglio qua ecco dove unisco un qualcosa una molecola che assorbe la luce e una molecola che favorisce la reazione di che avviene fra l'acqua e la co2 e gli zuccheri qual è questa molecola questa molecola è quello che chiamiamo un catalizzatore foto perché vuol dire che è attivato dalla luce no foto è la termine greco la radice greca di luce allora cos'è un catalizzatore non so se ne avete già sentito parlare eh in chimica il più importante è il platino sono elementi che accelerano fortemente l'avvenire di un il rate che sarebbe il numero di reazioni per unità di tempo di una reazione chimica ma non ci partecipano restano lì uguali come erano all'inizio il platino è un elemento costoso ma molto usato per accelerare parecchie delle reazioni di ossido riduzione qui c'è lo schema e si dice anche che il catalizzatore è come una macchina molecolare e l'abbiamo indicata con sta lettera m entra ed è da sola è una molecola è anche lei è è un ha una struttura chimica arriva un un atomo un composto che si chiama r viene assorbito cioè viene in collegamento con il catalizzatore dopodiché avviene la reazione ed r diventa p il catalizzatore lascia a questo punto andare la molecola p che è prodotta dalla reazione di r e ritorna come era prima per cui pronto per generare una nuova reazione semplicemente il fatto che la reazione avvenga in prossimità c'è qualche legame ma non è neanche un legame chimico anche solo un adsorbimento sulla superficie del catalizzatore fa sì che la reazione sia favorita e allora quello che si può pensare è di andare a trovare degli elementi perché qui è chimica pura proprio è chimica eh è studio dei materiali se prendete la tavola periodica vi dicevo il platino c'è però è caro e se l'idea che è venuta e che si sta applicando una di quelle per realizzare questi fotocatalizzatori è di prendere una combinazione di due metalli si chiamano etero bimetallici i composti che hanno per esempio un elemento di questa zona qui gialla sulla tavola periodica è un elemento dell'azzurra vi faccio l'esempio di cobalto e zirconio allora qui c'è dietro un po' di chimica che spero abbiate visto e che sappiate quando vedete sulla tavola periodica questi elementi ehm a ognuno di questi elementi corrisponde un diverso una diversa distribuzione degli elettroni che hanno allora l'ho cercata di schematizzare nel modo più semplice possibile vedete in qui a destra la struttura elettronica del cobalto che ha sette elettroni nelle shell più esterne liberi perciò liberi che sono più facili da allontanarsi dal nucleo di cobalto e qui vedete invece la struttura dello zirconio che di eh di elettroni non ne ha per cui sarebbe disponibile ad accettarli tra l'altro vedete anche com'è la scala delle energie perché ognuno di questi sono siti per gli elettroni no diciamo all'interno della struttura atomica e allora quello che è possibile è che se io metto il cobalto vicino allo zirconio gli elettroni che sono in più che sono quelli di valenza del cobalto possano essere trasferiti almeno in parte almeno uno allo zirconio che ha dei livelli non occupati liberi di accettarlo e poi da qui nasce tutto io ho cercato di sommare di fare un riassunto di tutti questi step che ci sono il primo step è primo di tutto vedete che l'elettrone per andare da qui a qui ha bisogno di avere dell'energia è più alto il livello chi gliela dà gliela dà il fotone cioè gliela dà la luce eh fotone è la più piccola quantità di luce che potete immaginare è rappresentato da questo perché sarebbe un'onda cortissima limitata nel tempo che arriva è l'onda del sole e quindi questo elettrone passa al eh allo zirconio step due trasferimento della carica dal cobalto a zirconio qui è scritto anche in inglese metal to metal charge transfer cioè trasferimento nello zirconio a questo punto è facile che le molecole o di acqua o di co2 ho scritto il punto a qui di nuovo conviene mettere qua ecco il punto un è l'assorbimento il punto due il trasferimento di carica il punto tre può essere sia nel caso che voi vogliate produrre che si voglia produrre solo idrogeno sia nel caso che si voglia produrre invece una trasformazione con la co2 l'importante del punto tre è che a questo punto lo zirconio che ha questo elettrone acquisito dal cobalto ha un elettrone in grado di partecipare e poi però di ritornare perché c'è il punto quattro vedete che quando gli ritorna poi questo è back electron transfer ritorna poi di nuovo a rioccupare il posto nel cobalto quindi è davvero una macchina circolare che poi ritorna come era ma nel momento in cui questo zirconio possiede questo elettrone questo è in grado di favorire la reazione o quella indicata col verde chiaro per l'acqua dello water splitting o quella della reazione con la co2 trasfermarla a molecole più reattive alla fine che cosa ritorna ritorna a co attenti che questo co non è monossido di carbonio è c grande o piccolo che sta per cobalto allora questa è l'idea del fotocatalizzatore non è solo questo il materiale vi ho scelto un esempio semplice ce ne sono moltissimi altri ossidi a base di ferro il più semplice di tutti è l'ossido di titanio la co2 è un elemento che fa parte dei nostri dentifrici delle vernici che sono spalmate qui per dipingere di bianco e se voi provate a prendere anche solo un po di grani di ossido di titanio lo mettete nell'acqua e la illuminate si riesce a vedere che c'è una reazione ed è una reazione anche di questo tipo di trasferimento di carica però questo esempio mi sembrava efficace per vedere anche i livelli energetici e l'altra cosa importante è che quella che abbiamo visto fin qui andava bene ma serve per un atomo ok una reazione favorita ne voglio tante e come faccio da tante quante tante che siano almeno dell'ordine del numero di avogadro 10 alla 34 ce ne sono in una mole no di atomi o di molecole allora devo avere e vedete che la reazione è una questione di superficie cioè l'idea che c'è scritto in questa freccia che qui a contatto con questo zirconio che ha un elettrone acquisito c'è o della co2 o della co2 dell'acqua o dell'acqua e della co2 oppure solo dell'acqua e perciò bisogna che ci sia una grande superficie esposta perché se l'acqua è lontana non avverrà mai che questo fa da catalizzatore allora deve aumentare la superficie questo è uno dei grandissimi problemi avere quella che noi chiamiamo un'area superficiale specifica che vuol dire quando è che avete una grande area superficiale non certo quando avete una superficie piatta come questa ma se avete una spugna quanta acqua è in grado di assorbire una superficie piatta come questa un po ma tutta quella che la va a ricoprire poi se c'è già una molecola qui l'altra sopra non è più in contatto ma se questa superficie invece è molto rugosa se addirittura è una spugna questa è in grado di assorbire perché ha tanti pori no in grado di assorbire molto di più l'acqua e a quel punto se è ricoperta di quelle elettro di quel fotocatalizzatore in grado di avere più reazioni allora la superficie che per esempio si usa è in silice si chiama meso porosa guardate questa foto è fatta con un microscopio elettronico questi sono 100 micron e ha dei buchi che sono dell'ordine di 50 60 micron quindi già abbiamo aumentato abbastanza è un materiale semplice green la silice è l'elemento della sabbia anche silicio e ossigeno ma non basta ci sono sulla superficie di queste grani di silice dei nanopori dei pori ancora più piccoli che sono dell'ordine di ehm dieci alla meno nove veramente nanometrici allora su questi pori e lì nel diagrammino vedete un pochino com'è l'idea no se è porosa già di per sé a questi grandi grani dell'ordine di 50 micron ma i forellini tra uno e l'altro sono dell'ordine di nanometri e qui avviene questa combinazione vedete che cobalto e zirconio grazie all'ossigeno sono in grado di assorbire di partecipare a delle reali di far partecipare e di far avvenire le reazioni quindi la l'idea di avere un supporto mesoporoso come la silice di tutto insieme l'aspetto poi rimane quello di una polvere una polvere di sabbia che però ha i grani di sabbia ricoperti come il fotocatalizzatore come è il dispositivo finale vabbè è abbastanza semplice sono dei dei vetrini pensate da microscopio ricoperti da questa polvere e messi nell'acqua qui è un esempio di water splitting e si vedono le bolle prodotte sono malmesse vi faccio vedere una foto più bella questa era pubblicata questa è nostra fatta in laboratorio da noi lo schemino che è stato usato è già vecchio è anche questo è una camera vedete una camera microfluidica prima di tutto è tra due pezzi di plexiglass chiusi dentro c'è dell'acqua abbiamo dato e ci sono dei tubi che servono per far entrare e far uscire l'acqua e i prodotti di reazione che saranno se solo water splitting idrogeno e ossigeno e poi ci sono dei dei fili elettrici elettrodi perché bisogna cominciare a calcolare e a misurare scusate più che calcolare potenziali e correnti e se lo guardate ingrandita questo è l'effetto che veramente il water splitting sta avvenendo perché si illumina con una lampada esterna questa camera che per fare la foglia artificiale c'è per simularla meglio era stata realizzata proprio già un po a forma di foglia e si vede se accendo la luce una forte produzione di bolle se la chiudo no questo vuol dire che comunque sta avvenendo adesso questa è solo la primissima proof of concept cioè prova di concetto poi dovrei misurare e catalogo vedere se davvero il gas prodotto e ossigeno o e idrogeno quanto ne produco primo problema li produco insieme in un dispositivo così ma io ho bisogno di avere idrogeno separato da ossigeno perché se li lascio assieme si ricombinano e formano di nuovo acqua e quindi bisognerà poi arrivare a trovare come generarli separati si sta studiando basta mettere una membrana e separare le due produzioni adesso però vi volevo far vedere spero di avere ancora cinque minuti cinque e ok poi così facciamo qualche domanda il dispositivo fatto invece nei laboratori del poli di di it che è l'istituto italiano di tecnologia eh presso il Politecnico presso il centro environment park e che corre che coinvolge una cella solare anzi un modulo di celle solari esterne che sia fatto perciò in questo modo l'idea è di avere delle celle solari esterne che prendono la luce dal sole che escono con una eh differenza di potenziale vedete che c'è questo più e questo meno che vengono applicati alla camera che si chiama cella elettrochimica cos'è la cella elettrochimica è una vaschetta dove ci sarà acqua e co2 la co2 di solito è gassosa cioè viene fatta entrare come quando nell'acqua minerale no eh quella eh quella con eh le bolle eh mettete dentro della co2 che gorgoglia questa è comunque una miscela di co2 e acqua e osservate la produzione di a idrogeno co che è monossido di carbonio e poi altri composti che possono essere etanolo metanolo questo è il lo schema del dispositivo che riassume e allora le cose importanti sono la luce che arriva questo che è il piccolo è un dispositivo da laboratorio è prototipo ordine di cinque centimetri per cinque centimetri il tutto questa parte qui scusate è la cella solare questa è la cella elettrocatalitica eh e ci sono vedete questa molecola questa è co2 perché c'è il carbonio che è grigio e i due ossigeni quella che esce e questo è l'importante già dal punto di vista della valorizzazione del recupero della co2 fare questo vuol già dire ho un dispositivo in grado di essere di ridurre la co2 a co solo grazie alla luce del sole e questo è già il primo passaggio molto importante da verificare come l'abbiamo verificato è appunto presso l'IT il dispositivo ha questa apparenza vi faccio vedere passo per passo questo è il modulo fotovoltaico che è fatto da cinque celle strane e non sono quelle normali al silicio sono delle celle a colorante che sono di nuova generazione sono eh semplici si producono con una tecnica che quasi di pittura cioè si spennella sopra con tecnologie molto poco costose eh il materiale che è un un colorante eh o artificiale o naturale è un elettrolita quest'altra struttura invece la cella elettrochimica la cella elettrochimica è fatta da appunto acqua scusate di nuovo per l'inglese co2 gassosa escono prodotti gassosi e co2 eventualmente che non ha reagito la cosa importante è questo questo catodo vedete che è fatto il cusn vuol dire rame e stagno di nuovo un bimetallico che fa il catalizzatore attenti però che questo non è più un un fotocatalizzatore perché la luce l'ha già presa la cella solare lui è solo quello che si chiama un elettrocatalizzatore e vedete allora prima di tutto questo catodo qui è rivestito da un composto bimetallico che è nanostrutturato questa è un'altra foto presa con il microscopio elettronico un'immagine presa e sulla scala dei decine di nanometri la nanostrutturazione quindi favorisce un grande scambio di quest'acqua con co2 che arriva dentro la camera seconda cosa c'è un foglio di platino che è comune per quello il dispositivo integrato questo piano qui che sto evidenziando col mouse è il è un elettrodo per la cella solare è un altro elettrodo però è fatto in un unico piano per la cella elettrochimica ed è fatto con platino in questo caso è ancora costoso magari troveremo qualcos'altro di più economico ci serviva fare la prova del concetto le celle catturano la luce e forniscono una tensione la cella elettrochimica con l'elettrocatalizzatore provvede alla reazione chimica il substrato è comune allora questa è la foto di come appariva in laboratorio quello che è importante è scritto qua ed è che in cioè che entrano vedete che anche qui la foto è fatta ancora con un dispositivo che ha più due camere questa volta la camera della cella solare e quella della cella elettrochimica dove ci sono un'entrata e un ingresso e un'uscita per i tubi dei gas e un'entrata e un'uscita per la corrente elettrica cioè gli elettrodi e vedete che infatti ci sono tubo in tubo out nel tubo in cosa entrano co2 e acqua sì non è solo tubo per il gas è acqua e gas insieme nell'auto escono co h2 e acido formico come si fa a verificare questo è un dispositivo dove già si arriva proprio a una misura quantitativa allora non vi preoccupate se non capiamo tutto questi sono i grafici in funzione del tempo dove sono riportati guardate qui a sinistra a sinistra si quella che si chiama l'efficienza faradica che complicata da definire ma essenzialmente è quanto gas riuscite a tutto è riferito alla co perché vi dicevo questo è lo scopo fondamentale è di co2 reduction ridurre la co2 e arrivare a dimostrare che siamo in grado di ottenere una molecola meno pericolosa per l'ambiente e quindi tra l'altro c'è una domanda che mi hanno fatto ieri ma anche la co è pericolosa sì è vero la co è pericolosa ma non è che ci mettiamo lì a respirarla quando esce è pericoloso se lasciate la stufetta accesa di notte e vi addormentate o il camino acceso di notte la combustione incompleta genera co però in questo caso la co che viene prodotta è immediatamente imbottigliata in qualche tannica in qualche contenitore e poi viene usata per successive reazioni cioè la co di per sé è vero che è pericolosissima no per l'uomo se la respirate rischia di combinarsi col ferro nell'emoglobina e può dare la morte però questa cosa avviene in un laboratorio dove tutto è concentrato e qualunque fuga immediatamente viene rivelata è come siamo a casa anche quando abbiamo dei problemi con le combustioni allora l'efficienza faradica è buona è riportata dai punti blu abbastanza non è stabile però è sui 70 per cento quello che è più interessante di tutti è la scala sulla parte rossa dove viene riportata il passo di produzione di co in millimoli al centimetro quadro all'ora se fate i punti viene fuori che ogni metro quadro di pannello solare perché è quello che esponiamo alla luce del sole potrebbe arrivare a generare due metri pubi di metano non è quello noi li abbiamo fatti partendo dalla co cioè combinando poi successivamente la co con l'idrogeno per arrivare ad avere formazione di ossigeno e metano per esempio con dei questo è solo calcolo non è il risultato il risultato è quel grafico che vi ho fatto vedere però potrebbe far ben sperare questo è un risultato importante che è stato pubblicato e reclamizzato perché può far ben vedere che è possibile avere un dispositivo salterei queste che sono solo le caratteristiche iv della cella e del della cella elettrochimica e della cella solare che fa vedere che si lavora bene a tre volte che sono quelli che dà la cella e qui si vede di nuovo i prodotti della reazione che sono monossido ehm metanolo e H2 acido formico scusate e H2 e si vede bene che la produzione più alta di CO si ha proprio per i tre volte come si vedeva dalle caratterizzazioni allora un'ultimissima cosa è che idrogeno e CO insieme sono una miscela utilissima che si chiama sin gas sin gas è il gas di sintesi e può venire usato per un sacco di altre successive trasformazioni quindi io concludo con questa slide dove si vede che in verità una società ideale potrebbe avere idrogeno e carbonio prodotti dal sole che vanno a integrarsi con la CO2 prodotta dalla refineria però vi dico il sogno è questo ragazzi avere una foglia artificiale e una pianta artificiale grande come questo albero purtroppo la realtà a cui siamo è questa siamo proprio ai primi step sta a voi poi nel futuro eh se farete degli studi prenderanno chiede questi studi c'è un interesse grandissimo si spera di andare molto più in là da da dove siamo ad attualmente va bene grazie per l'attenzione e se avete domande chiedete sono anche fuori al banchetto piuttosto